Musica B B Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Non c'è Basta Basta Perché piangi? Scusa Vai in cucina Vai in cucina Eh cosa c'è? C'è un topo? Uno scarafaggio C'è qualcosa? Guarda Guarda Sto guardando Cosa? Beh niente Non c'è niente da mangiare Papi Oh mio dio Carote Latte Calma Calma Non pia Non pia Non piangere Ci sono dei biscotti Mi sa che sono scaduti Perché Trova Marci Puzzano di toporagno Puzzano di te Cavolazzo Dovremmo andare a comprare qualcosa Perché non abbiamo più nulla da mangiare Da mettere sotto i dì Sì papà andiamo subito Ti prego Eh ho capito I soldi chi ce li dà Crescono Crescono sopra gli alberi I soldi Andiamo a rubare Andiamo Andiamo a rubare Non si dicono queste cose Cavolazzo Dai allora andiamo Vediamo Non c'è più nulla Cavolo siamo poverissimi Allora andiamo al centro commerciale Anzi vado da solo Perché tu sicuramente Mi farai fare delle figure orribili No io vengo con te No stai a casa Dopo ogni volta Mi dici Ah compriamo quello Quell'altro Un sacco di cose che non ci servono Io vengo con te papi Va bene Ok Però oh Mi prometti che non mi fai arrabbiare No Cosa no Cioè no che mi fai arrabbiare O si che ti prometto non mi fai arrabbiare Eh Non lo so Hai una Mi farai arrabbiare Assolutamente no Papi mi comporterò bene Bene Dai seguimi Forza andiamo Sì Papi 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 Piano Non iniziare a fare così dentro il centro commerciale Non iniziare a fare così dentro il centro commerciale Capito Va bene Allora comunque sia Gli hai fatti i compiti Cioè tu vuoi venire al supermercato Ma almeno gli hai fatti i compiti Io sì papà Storia 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 del Niagara Ah del Niagara Ma di che colore era il cavallo bianco di Napoleone Eh papà ma che domanda mi fai Era azzurro Ah ok fantastico Perfetto Allora market Si è trasferito da poco finalmente il market E noi c'entriamo Aspetta che devo fare il banco Matt vieni qui Dove sei? Ho saputo il mio figlio Fermo Non andare da nessuna parte Ok Comunque mi stavo chiedendo Ma il libro di bella faccia Lo vendono ancora Perché ne vogliono altro per un mio compagno di classe Certo che lo vendono ancora Ti Non ce l'hai? Ti 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 Ok dai vabbè Stavo scherzando Allora fammi fare un attimo il banco Matt Ok fatto Cosa? Tutto bene? Era il banco Matt Che faceva così Ok Ok Ah il centra Oh Non mettere i piedi la sua Oh vieni qui subito Oh Ok Che cavolo stai facendo? Allora il carrello non ho un euro Quindi dobbiamo prendere per forza i cesti Si Ecco qua Ok Allora Non andare in giro Non toccare nulla Non mettere niente dentro il carrello Hai capito? Rimani dietro di me Non mi far arrabbiare Va bene papà Premesso Se no non ti ci porto più al centro commerciale Ok? Va bene papi Allora verdure Quelle che devi mangiare Quale prendiamo? Garote Peperoni Zucchine Piano 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 Allora Visto che tu non ne mangi tante Prendiamo Direi Vediamo un pochettino Io direi di prendere della lattuga Ok Ne prendiamo cinque Cosa? Andiamo al McDonald's Non andiamo al McDonald's Sei a dieta Non vedi la pancia che hai? Allora poi Prendiamo un pochettino di pomodori Direi tre che ci facciamo una bella Dove sei? Oh Vieni qui Dove Non saltare sopra le cose Non saltare Stupido Non mi far far figuracce che ci buttano fuori Allora Le carote Ok Ti va una bella passata di verdure dopo? Ho detto ti va una bella passata di verdure? Sì papà È buonissima Ok Guarda Ti prendo Visto che ti piace anche una barbabietola Tanto ti piacciono Dove sei? Ti piacciono le barbabietole Mi piacciono Sono squisite Sono squisite Sì Sì Allora qua Guarda Vendono sempre quelle cose Che ti mettono subito di fianco agli occhi Per dire Oh compra ste cose Ma noi non si prendiamo niente di queste cose Gli occhiali Ma mica ci servono Papà io voglio questo Voglio il distributore di caramelle Caramelle Scendi da lì Non toccare tutto T'ho detto Non prendiamo le caramelle Sei Veramente mi sto arrabbiando Allora Frutta Reparto frutta Allora ci prendiamo Una banana Io direi che ci prendiamo anche Un'arancia E anche Due mele No anzi Ne prendo tre Perché tu Non mangi abbastanza frutta Cioè guarda Papà a me non piace la frutta Io voglio il kebab Ti stanno venendo tutti i bugni Per mangiare quel kebab Io ti giuro che se ti vedo ancora Andare a mangiare il kebab Dopo scuola con i tuoi amici Le buschi eh Ok papà Mangerò solo mele Allora pesce Che vuoi di pesce? Lo cuciniamo stasera Caviale e champagne Non abbiamo tutti quei soldi Ok Prendimi un po' di pesce pescato da un mese Pesce pagliaccio Ci prendiamo Come te Sei un clown Un clown Sei un pagliaccio Circo Allora poi vediamo un pochettino Andiamo da quest'altra parte Che non si passa Allora pane No Le bevande Coca cola No non prendiamo Le bevande Caracciata No il latte se l'avevamo Quindi non prendiamo Magari uno di latte Coca cola ti prego Dai una coca cola va bene Si Una creeper cola Una creeper cola Ok poi Per la mattina si prendiamo Due belle uova Per la mattina cornetti con la nutella No che cornetti con la nutella Uova Si facciamo le uova al tegamino No io non le mangio Cos'è che non mangi tu? Mangio le uova Ah ok fantastico Ok allora vestiti Per ora non si serve niente Io direi di andare alla cassa e pagare Noi vogliamo rubare Mio padre è un ladro E' appena uscito la galera Faccio di lì stupido Faccio di lì E non mi farà arrabbiare Non mi farà arrabbiare Scusi signore E' stupido E' lo so A scuola è veramente un disastro Fila via Vai fuori Aspettami fuori Aspettami fuori Che ti picchio Ok allora vediamo Abbiamo preso queste cose Quanto le devo signore? Ok fantastico Sono 5 diamanti in tutto 5 diamanti Mamma mia che ladro Eh volevo dire No va bene 1,2,3,4 e 5 Grazie Ok Bebi faccia Bebi faccia Bebi faccia Cucu T'ho visto che sei lì Ok Dai andiamo a casa Forza Papà è rubato? Ma non ho rubato Ho pagato Anche 5 diamanti Un sacco Ah hai ragione Peccato Ok dai Muoviamosi che ho la cosa da mettere dentro il frigo Che se no Ci va male la roba Dai Ok andiamo Muoviti Eh però non finirti tutto subito Eh Io ho fame Eh ho capito Dammi un attimo Ok Ok allora Quindi fammi mettere la spesa dentro il frigo Ok allora mettiamo le carote Queste sono andate a male ormai Mettiamo la lattuga I pomodori Le mele Oh guarda adesso nel frigo Quante cose che abbiamo Bebi faccia eh Abbiamo le uova Mettiamo anche la tua coca cola Fantastico Dove sei? Bebi faccia? Sì papà Cosa stai facendo? Eh stavo guardando i Eri al cellulare Come sempre eh Sì probabile Sei davanti a quel cellulare Come sempre Io quante volte te lo dico Che diventi stupido Diventi stupido Sempre davanti a quel cellulare Scusa Ogni volta così Allora vediamo Uova al tegamino Bebi faccia Bebi faccia è pronto Bebi faccia Bebi faccia No sei zitto Cos'è? Cos'è che Cos'è che hai detto? Sto Sto venendo a mangiare Muoviti dai Che si raffredda Dai Ok eccomi Cosa c'è di buono? Ah che odore Secondo me c'è Braciole al barbecue Con salsa chudors Sì sì chudors Allora Mettiti a sedere Ok scusa Mettiti a sedere Forza Allora Lattuga innanzitutto Tieni Lattuga Sì lattuga Mangia intanto quella Poi ti ho fatto Anche una barbabietola A vapore Ecco qua Barbabietola E poi Vediamo Anche Un bell'uovo Al tegamino Che ti metto Grazie papà È buonissimo E poi Ecco qua Guarda Te la sei proprio meritata Una bella coca cola Dai Ah sì Questa mi piace Le altre cose Fanno schifo Che cosa? Ok le altre cose Sono buonissime Ah fanno schifo Guarda dove te la metto La tua coca cola Allora No papà Lasciamela No No la metto No la metto La metto lassù Col cavolo Prima finisci le verdure Che hai nel piatto Finisci le verdure Fammi vedere Se le hai in mano le cose Ho visto che No Ma Ma che cosa Ma che cosa Ma che cosa Hai rotto l'uovo Sì Adesso hai rotto l'uovo Ho sbagliato Oh mio dio Ma dove è andato Adesso abbiamo un pollo Per caso Aspetta Lo uccido No 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 Non ucciderlo Non ucciderlo Ok E mio dio Fantastico Adesso dobbiamo Prenderci cura Anche di un animale Domestico Abbiamo anche un animale Domestico adesso Ho capito Perché pensavo Che se mi cadeva l'uovo Nasceva un pollo No Non possiamo tenerlo Mi dispiace Lo uccido No 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 Ok Ma che lo uccido Dopo viene la polizia A casa nostra Sei pazzo Che facciamo Dagli un nome Dagli un nome Aspetta Scarichiamolo nel water No lo scarichiamo nel water È una creatura vivente Dagli un nome Dai Chicken face No che chicken face Lo chiamiamo Come possiamo chiamarlo Dai guardalo bene Come lo possiamo chiamare Brutta faccia Non lo chiamiamo Brutta faccia Lo chiamiamo Bella Bella Bell faccino Bell faccino Bell pollino Bell 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 pollino Sì 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 Bell pollino D'ora in poi Lo chiameremo Bell pollino Io non lo porto fuori Lo porti tu Lo porto io Va bene Vieni qua bel pollino No 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 Ci serve un guinzaglio Dobbiamo andarlo a prendere Nel negozio d'animali Comunque sia Lascia bel pollino lì Ok E finisci La tua Cena Muoviti Certo che la finisco Cosa stai facendo Cosa stai facendo Stai buttando via Stai buttando via le verdure Stai buttando via le verdure Stai buttando Eh Cosa papà Stavo facendo la cena Prima non mangi le verdure Poi Prendi un animale domestico Che non vuoi nemmeno occupartene Cioè io veramente Dove sei? Sono qua Dove cavolo è? Adesso tu ti siedi qua Ho mangiato Dove sono le cose? Dove le hai buttate? Ho mangiato Dove sono? Hai mangiato eh? Sì Hai mangiato eh? Sì sì Seguimi Ok Arrivo arrivo Anzi guarda Prendiamo la tua creeper cola Sì che bello Vai andiamo Vieni guarda Ti faccio vedere una cosa Della creeper cola Cosa papi Guarda Sì Vieni guarda dove la butto Arrivo ci mettiamo le mentos Ci mettiamo dentro le mentos Guarda Ok vediamo Lì dentro Guarda Papà Ma dove? La creeper cola Hai visto che roba? Hai visto? E guarda anche questa Papà sto bruciando Sto bruciando Buonanotte E sogni d'oro Baby fazza